salve a tutti io sono fablinker e oggi siamo qui con il nostro barcellona in quel di fifa 22 continua la nostra rincorsa verso la liga rincorsa che sta andando abbastanza bene e cosa è allora c'è un conseil sao che sta giocando meravigliosamente ha fatto un debutto che mi ha lasciato un po senza parole per quanto è stato bravo e per il resto la squadra c'è sto guardando se c'è qualcosa che posso fare no direi che però c'è Olms che è più forte di Dragosin perché mettere Dragosin domanda mettiamo mettiamo Olms diamoli fiducia che secondo me Olms ci darà tante tante soddisfazioni secondo me poi magari mi sbaglio ma spero vivamente di no ragazzi si parte obiettivo vittoria chiaramente come sempre ah ah mano ah ho il vantaggio il vantaggio è durato un millisecondo sto vantaggio scusate eh ma c'è Campos che ci pensa lui ci pensa Campos ci pensa vai Delap bravissimo Delap Cuevas ancora Delap fatti vede bravo Cuevas ah bruttissimo questo tiro troppo lento troppo troppo lento non poteva impensierire sicuramente il portiere avversario no e vabbè oh mi manda al manicomio mamma mia oh mi mandano al manicomio con questi scambi veloci e con la e con la non possibilità di controbattere perché cioè loro in qualsiasi modo ti infilano eh se devono infilarti ti infilano stanno certo che in modo lo trovano è una roba raccapricciante quasi eh vabbè niente è finito finché non è finito certo che se giochiamo così è anche complicato abbastanza quantomeno bravo pazzo ah no niente non ci arriva ma quale giallo per un intervento un po' al limite mamma mia come siamo fiscali in questa in questo calcio moderno attenzione occasione che intervento di Holmes che intervento dell'app dell'app da solo eh però ero marcato da tre ero marcato da tre da tre è una roba fuori di testa incredibile eh come sta giocando Westy si però Garzia mamma mia ragazzi dobbiamo un attimo svegliarci perché sta giocando molto meglio di noi soprattutto in fase offensiva dove noi stiamo veramente carenti in questa partita mano mano ho visto in mezzo Dela che si era ben inserito ma che è sta roba chamber lane mamma mia vabbè il giorno che capirò come battere bene le punizioni in questo gioco sarà troppo tardi molto probabile oggi con se Sao non c'è sembra quasi in vacanza dopo l'ottimo debutto ora hai visto e vai e vai Ali 1 a 1 grande gol di Ali che tramite un'imbucata fatta da Quevas in maniera magistrale riesce a a infiltrarsi e controllare e metterla precisa nell'angolino più più alato del portiere ed è un a 1 molto bene devo dire che la partenza non è stata dei migliori però ci siamo ci siamo difesi quantomeno siamo riusciti a far gol in questa partita molto complicata che sinceramente no vabbè Garzia però Garzia veramente è un portiere che veramente è un portiere di un hotel portiere d'hotel perché come si fa a non prendere questa palla come si fa un tiro bruttissimo ma bruttissimo questo tiro poi vabbè il classico 1-2 in fase offensiva che non riesce a fermare neanche Usain Bolt vabbè io non ho più parole per questo gioco no Bamba Pinto e Pobega Pobega potrebbe dare una spinta in più che lui sappiamo che anche in fase offensiva non è scarso ha un buon tiro quindi io punterei su di lui vai Bamba per con 6 con 6 con con 6 vedete la della pareggia con un gol straordinario straordinario bellissimo bellissimo questo mi è piaciuto abbiamo fatto tre cambi importanti e si è visto e si è visto perché qua con Sensao fa un buon passaggio ma tutto era partito da Bamba tutto da lui è partito è Bamba Bamba importante in questa squadra Bamba importante dai Cuevas Delap per Paz no non ci credo non ci credo era gol era già gol era già gol a Campos a Campos ma che dormi si è fatto superare con una facilità imbarazzante sembrava stesse dormendo dai Delap ma porca miseria porca Delap veramente sti passaggini bruttissimi che manco in in serie C norvegese mannaggia te mannaggia Delap Bamba no ma no ma porca miseria ma cos'è sto colpo di testa ma cos'è sto colpo di testa cos'è niente niente da fare ci siamo mangiati una partita che potevamo vincere che potevamo vincere senza problemi cioè la siamo giocata male Delap si è mangiato un gol nel finale abbastanza facile se l'è mangiato di brutto di brutto cioè dovevamo far di più i tre punti erano praticamente obbligatori non c'era altro risultato sensato per il nostro anno per il nostro anno allora Ali innanzitutto come è uscito l'abbiamo pareggiata adesso io non voglio di nulla però 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 non può neanche lamentarsi allora offerta per Ruiz ok però senza riscatto va bene anche due anni accetto l'offerta per luna perché ancora non l'avevo accettata ah no era qui appunto ok ok mi sembrava che mi sembrava strano che non avessi ancora visto l'offerta per luna invece era poco sotto allora siamo quinti in classifica siamo contro il Leganess oggi con Sesao Panca che è un po' stanco io non posso mettere Zabala però vabbè facciamoli fare un tempo poi nel caso vediamo cosa fare oggi Bamba oggi Pinto oggi Pobega oggi Dragusin diamo fiducia a Dragusin e mi porto in Panca mi porto in Panca con Sesao per per Tiago Silva che tanto Tiago Silva non gioca me lo porto in Panca con Sesao che non si sa mai perché Zabala sappiamo benissimo che è un po' scarso leggermente solo che non riesco a a darlo via dai 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 Bamba bravissimo Bamba che fa la finta Bamba va da solo Bamba va da solo ci prova anche ma il portiere si oppone Zabala calcio d'angolo dai lap mamma mia no ma 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 come è possibile il palo di Dailap il palo grida ancora vendetta ma come è possibile ci sono rimasto malissimo io ma ma non è giusto bravo Popega eh però bravo una cippa bravo bravo una cippa no 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 per una volta Garcia fa una parata e il che mi rende fiero di lui bravo Zabala bravo Zabala dai per una volta devo dirti bravo bravo Dailap fa un buon passaggio Zabala per Bamba e vabbè allora dillo Dailap non voglio segnare non voglio segnare ma che c'è l'amorosa che ti fa il Leganess cioè oh dimmelo perché io non ti faccio più giocare con il Leganess non lo so oh Bamba niente aiuto oh no non può non può è un controllo non è casuale è un controllo di palla no vabbè questo è rigore questo è rigore il portiere non può prenderla con la mano in quel frangente cioè può se è una cosa non voluta ma lì è voluta perché se nella piglia calcio d'angolo è lì da presa apposta che era un controllo di palla che poi è stato fatto male ma era un controllo di palla no vabbè ragazzi sto gioco veramente sto gioco veramente mamma mia ma come si fa ma come si fa oh niente niente da fare della niente ha tirato un colpo di testa che sembrava vabbè dai la palla la ritrovarono su Marte comunque primo tempo dominato sotto tutti i punti di vista però non non si riesce a segnare non si riesce a segnare allora io voglio provare Moschera voglio provare Moschera e mettiamo Simeone al posto di di Ali che no di Delap che l'ho visto sotto porta imbarazzante si Delap sotto porta oggi non c'è stato quindi Simeone potrebbe essere una buona alternativa no ma come l'ha presa tra l'altro avete visto proprio parata parata così col Bostic bravo Amato oggi difesa perfetta al momento ci manca quel qualcosa in attacco come sempre per fare gol ma tenta il cross no Moschera vicino al gol al debutto non ci credo bellissimo colpo di testa di Moschera al debutto quella comunque era imprendibile a casa mia come cavolo ha fatto a pararla lo sa solo lui no vabbè ragazzi io non penso che questa partita si possa vincere io non penso io non penso io non penso io non penso c'è il portiere che sta facendo il fenomeno il fenomeno bravissimo bellissimo intervento vabbè dopo questa mi sa che ha munito allora potremmo mettere Zabala comunque ha giocato abbastanza bene mettiamo con 6 sao però per dare più spinta alla fase offensiva si vabbè dai una munizione che ci può stare ha fatto bene è fatto bene mi aveva veramente rotto no bamba no no era l'occasione della vita se la vinco loro veramente la paz però ci ha messo due anni a fare un passaggio su con 6 sao Simeone Quevas fatti vedere Quevas fatti ti prego oh niente niente allora ci sto provando in tutti i modi in tutti i modi in tutti i modi dai Simeone 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 da solo Moschera no vabbè ma cosa ha preso ancora cosa ha preso ancora Simeone giro di Moschera buonissimo ma va ma va è una barzelletta continuo a ripetere che è una barzelletta sto gioco ma vaffanculo va dai scusate però dai ma che cavolo è ma che partita è ma che partita è 13 tiri a 4 tra cui ripeto due pali anzi un palo due traverse tre interventi miracolosi almeno del portiere avversario almeno poi non so se ce n'erano degli altri ma ok io cosa devo dire scusate io cosa devo dire io cosa devo dire più di così non riesco a fare non riesco a fare perché c'è ho fatto ho fatto tutto quello che potevo fare loro fanno un tiro in porta preciso gol allora Quevas cambia cambia ruolo è rimasto uguale è rimasto uguale spiaccicato vabbè che soddisfazioni quando crescono così è soddisfacente succo morale no Zabala per una volta poveretto ha giocato bene oh mi hanno mi hanno mi hanno prolungato il contratto in nazionale che bello offerta per il presto di Ricci a breve termine vai Ricci fatti vede accordo per Ruiz oh finalmente 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 resoconto sul cubo 81 di overall 22 anni è molto veloce è molto veloce è già tra i preferiti è interessante però questo questo cubo molto interessante anche se mi sa no abbiamo 31 milioni in realtà eh esterno destro aspettiamo un attimo però potrebbe essere un buon giocatore per il futuro potrebbe essere oh se l'ho fatta eh però detto di riscatto no per Crespo è normale due anni dai Crespo luna in prestito bene Bamba sta attraversando un buon periodo di forma ci penserò ci penserò anche per te Holmes siamo scesi all'ottavo posto tutto grazie a questo script inguardabile vabbè comunque ragazzi a parte tutto noi ci becchiamo alla prossima vi ricordo anche link in descrizione per supportare il canale e vi mando un saluto alla prossima ciao ragazzi ciao